Ah, com'è Mari? Eh? Che state facendo? Stai cogliando due miei erbi perché non c'è c'è cori, non c'è c'è couti, c'è costati dove in tante maniere queste sono tutte genuini Ah sì? Sì sì, sono bellissime queste sono buone, sono amare e sono buone per la salute e per tutti E dove cucinate queste dopo? Ah, queste cuciniamo un cottarello di linea è bello cottare i durandi i cuciniamo, i cuciniamo e abbiamo pure il brodo Ah, il brodo perché? Che viene purificante, che è amaro e che è buono per tutte le cose faccio bene la salute Ah sì? Sì sì, è buonissimo E noi andiamo a imparare i genitori nostri e che nascemmo la mamma mia eravamo sette figli e mettiamo gli erbi iunci, i fenocchi i fenocchi, i costati specialmente queste cose che sono i costati i costati si chiamano i costati che sono una bellezza i cucuti hanno amaro e i cucuti che fanno pure un serufo patos è una bellezza i cucchi i cucchi i cucchi ora non ci sono nulla perché ora c'è altre cose però queste sono proprio naturali bellissime Ma queste sono cucinate stasera o domani? queste sono domani stasera e allora arriviamo a campagna è tardo, non la vediamo ma su belle linee su belle linee facciamo un luce cuotropoli una bella cordarello e questa carne è una manata facetemi via i cicori quali sono i cicori? i cicori ma ti mostro questa erba è lì? questa è la cicuta dimmi i cicori la cicoria ma qui ci sono questa è la cicoria qui ci sono belle vedete? sì, sono bellissime erbi di mar qui ci sono qui ci sono qui ci sono la città la città la città la città è la città la città e poi i cucchi che città sono fenoci sono fenoci quando lo troviamo sì un fenoci perché è una cosa bella sai se andiamo accattando queste cose di fruttoventoli che non servono e poi mettono un entrato pure mettono medicinali che faccio male invece questi sono naturali questi sono naturalissimi una bellezza va buono allora cucinata che dopo non ti prendiamo due felice sono morto a quelli sono puliti quindi vedi gli occhi era molto buono mi sembra un pestano adesso quando ti prendiamo la caldita per la mano